TG Padova, ben ritrovati, l'informazione in diretta di Rete Veneta, è il momento ora di rivedere i fatti più importanti di questa settimana, la cronaca non solo la politica, lo sport, il costume, allora riviviamo e rivediamo insieme i fatti più importanti degli ultimi sette giorni. La lunga serie di spaccate a bar e negozi di Padova è arrivata la 35esima puntata, tra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte, i ladri se la sono presa con il negozio di abbigliamento E-Fashion in via Martiri, Giuliani e Dalmati, alla Stanga, di fianco al centro Giotto. I malviventi hanno sfondato una delle vetrine usando pare due grosse pietre, un negozio gestito da cinesi e ben dotato di telecamere dentro e fuori lo stabile. La polizia ha sequestrato le immagini, pare che i ladri fossero due e ha volto scoperto. Bottino il fondo cassa di 100 euro. Stavolta non siamo in centro storico, l'esercizio non è di un pezzo grosso del commercio padovano, per cui forse i due vandali di sabato sera potrebbero non essere i colpevoli seriali dei precedenti vandalismi. Un fenomeno quello delle spaccate che da agosto sta impegnando le forze dell'ordine in una caccia al vandalo senza precedenti in città e con i negozianti che già non ne possono più di riparare danni ai loro esercizi di valore superiore al furto subito. Sindaco, prefetto e questore si vedono tutti i giorni. Il ministro dell'interno, polemizzando con la giunta padovana di centro-sinistra, ha disposto l'invio a Padova di 40 poliziotti in più, 10 entro ottobre e di altri entro febbraio. Da oggi intanto i negozianti patavini possono presentare domanda al comune per il contributo per nuovi impianti di allarme, anti-intrusione, nuove blindature, saracinesche, vetri antisfondamento e illuminazione aggiuntiva. Il modulo è sul sito del comune e le fatture vanno poi presentate entro metà dicembre. Dal lunedì prossimo verranno installate le prime 36 telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Giordani ha chiesto agli uffici di accelerare le pratiche per questo primo lotto che coprirà non solo il centro storico e alcuni luoghi chiave come il centro altinate San Gaetano, il sottopasso della Stua, il ghetto, ma anche i quartieri, in particolare davanti alle scuole. Il primo lotto verrà completato dall'installazione di altre 216 telecamere entro gennaio 2019. Un mercato della droga all'ingrosso gestito anche con i bitcoin, sequestrato un quintale di droga. 25 kg di hashish, 75 di marijuana e 200 g di cocaina, oltre a funghi allucinogeni, pasta di oppio, biscotti alla canapa, agli strumenti di confezionamento e a 205 mila euro in incontanti. Droga acquistata in internet, su pagine web nascoste, che non si trovano nei motori di ricerca. Base logistica degli arrivi e partenze dei pacchi di stupefacenti portati sia da corrieri di fiducia che da ignari autotrasportatori, un appartamento in un condominio storico di via Mentana, laterale di via Sorio, a ridosso del centro. L'organizzazione criminale, guidata da Emanuele Lovato, barista, poteva permettersi di pagare un affitto di 1.600 euro al mese. C'erano dei corrieri che erano i rifornitori, rifornitori importanti, stiamo parlando di decine di chili alla volta, non era il piccolo spacciatore. E a sua volta chi comprava non era il piccolo acquirente, gli acquirenti che compravano almeno un chilo in su. Un'indagine durata mesi con appostamenti e poliziotti specializzati in crimini informatici che autorizzati dal ministero si sono finti i clienti e hanno acquistato la droga. Le transazioni avvenivano in bitcoin, una criptovaluta che si usa online. Per mesi è stata tenuta sotto sorveglianza la casa di via Mentana, dove la polizia ha documentato il fitto via vai di clienti e fornitori. 400 controlli a campione, tantissime le partite di droga sequestrate. 8 arrestati, 5 erano in carcere, 2 sono finiti ai domiciliari e 1 con obbligo di firma. Dai 100 chili sequestrati si stima si potessero ricavare circa 300.000 dosi. Tra gli indagati, molti insospettabili, tra loro padre e figlio milanesi con impieghi di rilievo e intermediari che vendevano plichi da quasi 30 chili per volta. Il capo dell'organizzazione è anche accusato di autoriciclaggio perché ha reinvestito i proventi dello spaccio in ulteriori bitcoin. Solo per questo reato rischia fino a 10 anni di carcere. La merce era nascosta nell'abitazione dentro dei mobili modificati, come questo appendiabiti da parete con doppio fondo, al quale si accedeva con una particolare chiave nascosta in uno dei pomelli. E' stato un cittadino tunisino che riteniamo l'autore di gran parte delle spaccate che sono venute in centro ai danni dei servizi commerciali in questo ultimo periodo. E' un pluri pregiudicato tunisino di 40 anni, regolare sul territorio italiano, già ospite del carcere due palazzi di Padova per spaccio di stupefacenti e più in generale con una lunga sfilza di precedenti, l'uomo che probabilmente ha tenuto sotto scacco un'intera città con un'impressionante serie di spaccate a cadenza quasi quotidiana negli ultimi due mesi, un caso che era diventato di livello nazionale. Come ci si è arrivato? Con la vecchia polizia, la polizia fatta da persone che hanno esperienza, che hanno la conoscenza del territorio, che parlano con i pregiudicati, avvalendosi dei vecchi metodi della polizia, cioè i pedinamenti, le osservazioni, la ricerca capillare precisa delle fonti di prova e delle tracce. I sistemi di videosorveglianza, anche privati, hanno consentito di riconoscere in diversi filmati la stessa persona con gli stessi indumenti, spostarsi in bicicletta nei luoghi e negli orari di alcuni colpi. Il suo punto d'appoggio era un appartamento in zona chiesa nuova. Da tempo era sorvegliato speciale, poi la polizia ha deciso di chiudere il cerchio. Siamo intervenuti perché i colleghi che erano appostati ci hanno segnalato via radio guardate che sta correndo in bicicletta con la testa girata indietro, cioè lui guardava se era seguito. Ecco che abbiamo deciso, beh, lo blocchiamo, perché? Perché se si fosse spostato di quel luogo dove si era rifugiato non avevamo neanche più un posto da cui partire perché non sai dove trovarlo, essendo clandestino. L'abbiamo trovato seguendolo, abbiamo trovato dove dormiva e perdere quell'obiettivo per noi sarebbe stato veramente catastrofico. Ci sentiamo, come ci sentiamo, alleggeriti, leggermente alleviati, nel senso siamo contenti che comunque abbia avuto inizio una svolta. Staremo a vedere adesso la prosecuzione del tutto perché comunque lo stesso questore ha detto che non opera da solo, ci sono altre persone. Speriamo si arrivi sempre all'obiettivo finale che è quello di porre fino a tutto questo trambusto che si è creato. Hanno dormito sonni più tranquilli stanotte i commercianti di Padova. In galleria Borromeo sono stati colpiti quasi tutti i negozi. Guido, un bistro aperto da pochi mesi di spaccate, ne aveva subite due l'ultima, 15 giorni fa. Tranquilli, ma non troppo. Secondo me non è lui. Io penso questo. Troppo facile, non può aver fatto da solo tutte quelle cose là. Secondo me c'è qualcosa sotto e riandranno a rubare. Speriamo, se l'hanno preso, bravi loro e speriamo che non venga più nessuno. Già che ne abbiano preso uno è una buona notizia. Poi sì, quello che confidiamo a noi è che finalmente rimangono anche dentro, che non vengono fuori il giorno dopo perché se no siamo appunto a capo e mi sembra che anche l'altro giorno le forze donne si stanno andando a fare, ne stanno anche prendendo più di qualcuno, però anche chi ruba il giorno stesso purtroppo è fuori. Sono aumentati i controlli in queste settimane, gli effetti si sono visti. Adesso la richiesta è una. Servono le telecamere del comune e al più presto. Metteremo anche delle telecamere interne perché esternamente io rimango della convinzione che essendo un uso privato ma pubblico, parlo della galleria, il comune debba fare la sua parte. Più di una, anche una decina qua sotto perché è una galleria tutta chiusa, da fuori non vedi niente, quindi ci può stare anche più di una e in tutta Padova anche più di una. Io dico che il comune solo dai plateatici dei locali, senza pensare alle tasse che raccoglie da ogni solito, ma solo dai plateatici che ci sono nei locali, prende svariate migliaia di euro ogni anno. Quindi rinvestire anche solo una piccola parte in sicurezza, anche focalizzato qua in galleria, non sarebbe male. Il 28 settembre la partenza degli ultimi richiedenti asilo nel lab di Bagnoli di sopra ha chiuso l'attività di quello che era stato il più grande centro profughi della provincia di Padova. Una partenza defilata senza comunicazioni ufficiali neanche al sindaco Roberto Milan, che se ne accorto da solo e nel mistero di quale fosse la loro destinazione finale. Un quesito che a 90 Padovana hanno sciolto mentre davanti a Bagnoli si festeggiava la chiusura della base. Gli ultimi profughi della base di San Siro sono stati trasferiti all'hotel Paradiso, albergo di 90 Padovana che con almeno 70 presenze è diventato il più grosso concentramento della provincia. Le richieste di spiegazioni al ministro Salvini sono per ora rimaste senza risposta. È questione veramente di principio, soprattutto perché non è che si può vendere al mondo che ci è fatto la grandissima impresa di aver chiuso Bagnoli e poi in realtà si è solo spalmato il problema sugli altri casi, centri di accoglienza straordinari. A questo punto a 90 c'è un centro di accoglienza straordinario, chiudiamolo, così come abbiamo chiuso Bagnoli. Presto il sindaco e segretario regionale del PD Alessandro Luigi Bisato incontrerà il prefetto di Padova Renato Franceschelli in attesa però di un segnale anche dal Viminale. Il ministro è il ministro di tutti e io mi sento parte di questo Stato. Io dalla sera alla mattina cerco di fare il mio pezzo di responsabilità come uomo dello Stato, da sindaco. Altrettanto mi aspetto da un ministro, perlomeno un colloquio franco, per cui mi dica non posso. Almeno però lo diciamo alla gente, lo diciamo a tutti. Nega tutto Amor Ben Lazar Torki, il tunisino quarantenne interrogato ieri in tribunale a Padova dal giudice per le indagini preliminari. È lui, secondo gli investigatori della polizia, l'autore di almeno quattro dei colpi che hanno creato il panico tra i commercianti della città. Lo straniero resterà in carcere, il giudice teme la possibile reiterazione del reato. Intanto le indagini continuano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, il tunisino avrebbe addirittura fatto uso di droga prima di entrare in azione e fare razzia nei negozi. In attesa delle indagini dei carabinieri dei RIS di Parma, che stanno esaminando le tracce biologiche trovate anche in altri negozi colpiti, si continua a lavorare. Parte della refurtiva è stata recuperata nell'abitazione dove viveva, una casa atera assegnata alla sorella che attualmente si trova in Tunisia. Un alloggio che viene affidato sulla base di una graduatoria pubblica e dove nessuno sapeva vivesse stabilmente lo straniero, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine.